questa gattina che abbiamo ribattezzato gioia è stata investita alcuni giorni fa a portore canati e recuperata da una ragazza che la condotta dal veterinario gioia ha riportato una frattura del bacino che ha richiesto un intervento chirurgico di stabilizzazione e sembra tra l'altro non avere sensibilità all'arto posteriore sinistro è stata operata ieri e speriamo che possa riprendersi completamente grazie a tutti grazie a tutti